Innamorate di stamaglia qua, onorate di questa città La gente va allo zaccheria, mica all'università Facciamo tanto casino, fanculo, casino E non ci avrete mai, come volete voi Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi Si chiama Foggia ed è una malattia Che non va più via, che non va più via, che non va più via Sopra il beat, con vini G e cilici Durum Benu Cazzo, H2CV Dalla serie B alla serie C Con in testo un unico obiettivo fra te La serie B Allora, buon anno a tutti Questa è la prima puntata della partita di Midici del 2016 Purtroppo non commentiamo una vittoria Ma è arrivato questo pareggio in casa con la Juve Stabia Solita squadra rognosa E quindi andiamo a commentare la partita Abbiamo collegato Giacomo da Milano Nostro Guanito da Mantua, giusto? Sì, sì Ok, giusto? Poi abbiamo Vincenzo Nessunaresa da Pomarance E Biaggio che affoggia E poi abbiamo un nuovo ingresso che è Giovanni E farei, darei subito la parola a lui Così può presentarsi e può fare il suo commento Ah, c'è Pino, scusate Pino dalla California come al solito E quindi niente, partirei con Giovanni Perché è nuovo, così lo possiamo conoscere E ci dà subito le sue impressioni sulla partita di oggi Allora Sicuramente è stato Secondo il mio punto di vista Il Foggio è giocato davvero bene Anche se il pareggio fa sempre male Come di solito accade Manca sempre il gol Come per esempio il primo tempo Giammet ha sbagliato un gol Che non avrebbe mai dovuto sbagliare Di fronte al portire, da solo Poi il gioco del Foggio è sempre quello La Juve Stabia si è chiusa dietro Quindi nel secondo tempo è stato anche più difficile Entrare e aprire la difesa Per chiare occasioni maggiori Poi abbiamo conosciuto tutti Chirico Che io prima non conoscevo Per me è un ottimo giocatore Solo che non ho capito il cambio del 55esimo Subito per Floriano Che stava giocando bene secondo me Però Chirico ha fatto una buona prestazione Tu da dove chiami Giovanni? Giovanni Da dove chiami? Da Chiti Quindi anche tu insomma sei un esule Sì Va bene, Pino E niente Speravo che il Foggio almeno in queste prime due partite La prossima anche con la Paganese in casa Portasse proprio 6 punti Però il pareggio fa male lo so Domani in casa giocherà Eh vabbè comunque ci possiamo consolare col pareggio del Lecce A casa dei cadaveri della Lupo Castelli Insomma quello è peggio del nostro Allora io andrei subito da Pino Che è più lontano di noi Pino? Ciao Ah eccoci qua Ci ha fatto male Il break che abbiamo avuto dalle feste natalizie ci ha fatto un po' maluccio Abbiamo un po' dimenticato il Foggia, il nostro Foggia E niente C'è da rifinire Giustamente Sicuramente De Zerbi prenderà giusta precauzione di quello che è successo oggi Perché ultimi passaggi C'è stata un po' di confusione Da parte di tutti E' stato pure coraggioso Mister De Zerbi ad inserire Chiri Co Come punta Un nuovissimo giocatore Nuovo negli schemi Nuovo in tutto E' stato coraggioso di inserirlo E si è visto che Qualche passaggio è stato perso Dato o avuto dai compagni di squadra Quindi deve rientrare pure lui Nello schema del gioco E' certo E' imparare a conoscere anche De Zerbi Un pazzo Ok Allora Luanito Tu che ci dici Insomma te Ha fatto bene De Zerbi a rischiare di vincere la partita Perché poi alla fine ci sono anche esposti a A molti contropiedi Quindi potevamo pure Combinare insomma la frittata E prendere il gol e perdere la partita Esatto Sì sì Ha rischiato tanto Sapendo che comunque C'era il rischio di 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 prendere qualche contropiede Verso la fine Infatti c'è stato qualche azione Un po' pericolosa Con Con Arcidiacono E gli altri là davanti E Detto questo Sì ho visto un foggia Meno brillante del solito Però questo è dettato comunque Dal fatto della pausa Di questi venti giorni Che Come dicevamo Per noi Sono stati secondo me un po' Deleteri ecco A maggior ragione per noi Ma perché comunque Ma perché secondo me Cioè sono troppi giorni Per Tra una partita e l'altra Cioè sono state tre settimane Se non sbaglio E Comunque è anche una polemica Che insomma Al giorno d'oggi sto sentendo anche in tv Adesso noi abbiamo iniziato ancora più Più tardi Ad esempio anche in Serie A Iniziato il 6 dopo che comunque Avevano giocato Però vabbè questa è una cosa comune Diciamo Anche a Juve Stabia Sì esatto Esatto Però noi comunque Che comunque abbiamo ambizioni Di comunque Di continuare Di essere là davanti È sempre difficile Dopo ho visto Come dici tu Il Lecce È andato a pareggiare Pure loro Con una squadra Che ha 6 punti In classifica Quindi Non siamo gli unici Vincenzo Avete voluto chiedere Diciamo Di donna All'inizio Ho dato un po' Di dati statistici Allora la Juve Stabia Non perdeva da 10 partite E noi in realtà Venivamo da 4 vittorie consecutive Però la Juve Stabia Era una squadra Che ha fatto tanti pareggi Quindi Si poteva immaginare Era una squadra rocciosa Quindi infatti Si sono messi là Come tutte le squadre Però con buon ordine Buona Tigna Diciamo Ci hanno ribattuto Colpo su colpo Secondo te C'era Una strada diversa Per affrontare la partita Intanto Buonasera a tutti Ragazzi Siamo Siamo rientrati Con un triste Un triste pareggio C'è Trovato Negativo Diciamo Il pareggio Ma ascoltate Io non sono di questo avviso Nel senso che Il Foggia Ha giocato bene Si è fatto sorprendere Su quel primo gol Che Un po' Ci ha tagliato le gambe Però poi insomma Nel primo tempo Abbiamo reagito bene E abbiamo Riacciuffato Riacciuffato Il pareggio Secondo me Secondo me Iemmello Iemmello Quest'oggi Ci ha fatto un attimino Penare Anche se poi De fatto Il pareggio È dovuto a lui Però Ha avuto Almeno due Occasioni Prima del pareggio Di metterla Di metterla dentro E Un attaccante Di razza Come lui Non possono essere Non si può Non si può sbagliare Quei gol nitide Davanti al portiere Solo Come Ha avuto Quelle occasioni Che ha avuto Vanno a buttare dentro Diciamo Secondo me Anche il secondo tempo Lui ha avuto Due o tre palle In questo Stato Assolutamente Assolutamente Anche il secondo tempo Ha avuto Le due occasioni Che purtroppo Non ha buttato dentro Quindi Un attaccante Di razza Come lui Non può E non deve Non può E sottolineo Non deve Buttare fuori Queste palle Sono palle Da buttare Nel sacco E a quest'ora Saremo qui A commentare Un'ulteriore Vittoria Nel nostro Foggia Perché infatti Diciamo Quello abbiamo Sempre chiesto Agli Emello I gol facili Assolutamente Che stanno mancanti Assolutamente I gol facili Sono quelli Che purtroppo Per ora Sono per noi Quelli più difficili Diciamo a fare Dei gol Anche il gol E pareggio Insomma È andato sul palo E poi è andato in porta Quindi Pochi centimetri E sarebbe andato fuori Onore Assolutamente Onore Agli Emello Che è il nostro Attaccante di razza Però Deve Un attimino Essere più Lì Davanti Anche perché Le occasioni le ha Ecco Quindi Deve buttarla dentro Con più facilità Giacomo Allora La novità vera Di questa partita È stato Il centrocampo Diciamo Nessuno si aspettava Riverola E invece Riverola è partito titolare Poveraccio per lui Mi dispiace Insomma Che è stato poi In causa Un po' Del gol Che abbiamo subito Però Secondo me Non stava giocando male Come l'hai vista Questa scelta Per quale motivo Secondate Zerbi Ha fatto giocare lui E poi Com'è stato poi Il cambio con Gerbo Che alla fine Non ha dato quella scossa Forse Che ci si aspettava Ma io Come molti Invece hanno fatto Leggevo Su Variforum Che hanno criticato La scelta di Riverola Dall'inizio Io penso che in realtà Riverola Nelle ultime partite Cioè Aveva giocato spesso Abbastanza bene Quindi magari Meritava il posto titolare Sicuro è Secondo me Che oggi Non era in partita Nel senso Ho sbagliato Tutti gli appoggi possibili E mi dispiace Perché secondo me È un giocatore Molto forte Però Non mi è piaciuto Non era in partita Gerbo Non ha dato la svolta Che ci aspettavamo Però comunque L'ho visto In palla Io avrei tolto Per dire Agnelli In secondo tempo Che mi è sembrato Veramente Che non si reggesse Più in piedi A un certo punto Già intorno a 20 minuti Dalla fine Magari avrei provato Può essere che De Zerbi Ha provato a far giocare Riverola Magari Perché si immaginava Una Juve Stabia arroccata Allora Un giocatore come Riverola Che andava tra le linee Infatti pure Nel primo tempo Prima del gol Andava Si faceva a trovare Sua tre quarti Cercava di smestare palloni Poteva essere una variante Al nostro gioco Infatti ripeto Secondo me Giusta la scelta di Riverola Dall'inizio Solo che oggi Riverola non è in partita Non ha fatto Le buone prestazioni Non ha ripetuto Le buone prestazioni Delle giornate precedenti Secondo me Quindi Ti dì No In senso In generale Sulla partita Non ti vedo tanto contento Non è che non sono contento Mi dispiace Regalare Sti punti A queste squadrette Così antipatiche Capito che ogni anno Ci danno fastidio Il campionato è lungo Io sono soddisfatto pure Della prestazione Sinceramente Mi dà proprio l'idea Di una squadra Che è forte Capito Ogni azione che facciamo Mi dà l'idea Di una squadra Che c'è Che è presente Che è forte Purtroppo Purtroppo Le partite Si vincono Si pareggiano Si perdono Viaggio Ci sono Ci sono Allora noi Anticipiamo Che avremo anche Un collegamento Dallo stadio E quindi Quando sei Insomma In contatto Con il nostro amico Dallo stadio Dici pure Così procediamo Nel frattempo Volevo chiedere a te Ieri ci siamo sentiti In privato E commentavamo Appunto Che il rientro Delle vacanze Può essere sempre Un punto interrogativo Vero E infatti Sia per noi Che per il Lecce Se questo Si è rivelato Vero Ora Secondo me Dal mio punto di vista Il pareggio Non è un risultato Da buttare Oggi Perché l'Aiuto e Stabia Non è una squadra Non è la Paganese Non è il Martina Ecco Volevo chiedere A te Come vedevi Questo rientro Se pensi Che magari Abbiamo potuto Anche soffrire Di una Preparazione fisica Non lo so Magari O se è stato Solo un caso Ecco Che non abbiamo Portato a casa I tre punti Sicuramente Innanzitutto Buon anno a tutti Sicuramente Ci siamo trovati Di fronte A una Situazione Fortemente Condizionata Dal Gol La prima Taz La partita Era quella Che Ci saremmo Di aspettare Tutti quanti Non è Non è Diversa Da Da Quella Che Una squadra Come La 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 concentrazione se sentiamo male mi sentite male? spero vada meglio comunque allora magari proviamo a sentire il nostro amico dallo stadio proviamo a collegarlo magari io ti passo un attimo la linea nel frattempo almeno da un punto di vista del video, proviamo a chiamarlo andatevi un attimo che cerchiamo di approfitto? sì in attesa di collegarci con lo Zaccheria mi premeva di dare un grosso abbraccio a Marica e soprattutto ai genitori di Marica che stanno stanno combattendo contro contro un brutto un brutto male tutti noi di Mitico Channel siamo siamo con con i genitori e con Marica soprattutto che siamo sicuri che che riuscirà a vincere questa questa partita è la partita più importante che che ha e tutti noi siamo con lei forza Marica siamo con te e forza forza genitori altrettanto siamo con voi da un genitore è certo sicuramente benissimo sì allora proviamo a vedere Alessandro ci sei? sì ci sono ciao Biagio mi senti? sì sì ti sento vediamo un pochettino se penso che si senta bene beh Alessandro dai ci devi tu sei stato sei appena uscito dall'Ozzaccheria vero? esatto esatto sì sì sono stato dall'Ozzaccheria oggi abbastanza cremito innanzitutto ci chiediamo a salutare te e tutti gli amici di Mitico Channel sì è stata una bella partita abbastanza tirata e abbastanza ostica visto che comunque loro ci sono divestiti abbastanza bene insomma per me è stato abbastanza difficile cercare di di far gol non male direi l'innesto di Chiricò nel secondo tempo insomma che ha vivacizzato abbastanza la manovra saltando facilmente l'uomo è solo che loro avevano questi due difensori centrali abbastanza alti e prestanti per cui era era difficile con i cross di Chiricò riuscire a far gol di testa per noi insomma non è stato facile sì 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 abbiamo visto senti quindi ci racconti il clima dello stadio perché è bello bello caldo caldo come sempre una bella cornice di pubblico si corri dall'inizio alla fine un po' troppe botte troppi petardi che chiaramente vanno un po' secondo me a rovinare la festa ma voglio dire però bello bello una bella cornice di pubblico va bene così beh Alessandro allora io volevo dire agli amici adesso vedono in sovrimpressione la tua foto Alessandro è molto vicino a Medico Channel e Alessandro è il nostro sponsor e lui è quello che ogni tanto sentite urlare il saluto agli amici della piada uno in diretta ce lo puoi fare no? certo c'è ancora buonasera a tutti amici della piada ma perché no di Medico Channel a questo punto direi perfetto perfetto senti ci dici solo una cosa tu hai messo su una cosa che è seguitissima una tua diciamo un tuo programma molto originale visto che noi siamo originali ma tu sei riuscito a farlo anche di più c'è il la tua Champions League è facile in pratica basta andare sul nostro profilo Facebook e tutti i giovedì mattina dalle sette noi postiamo un quiz una domanda così generica che può essere di cultura generale o di film insomma qualsiasi cosa per cui chiunque può partecipare insomma e divertirsi con noi perché alla fine quello stiamo facendo ci stiamo divertendo ma stiamo facendo nient'altro e quindi insomma poi il giorno dopo meglio dopo due giorni perché adesso sono capite un po' le regole dopo due giorni vado a fare una videoestrazione per cui insomma tutti quelli che hanno risposto correttamente al quiz hanno la possibilità di vincere dei premi che sono gli altri poi sicconi il tempo anche abbastanza più ricchi rispetto ai primi infatti è nato il gioco come scroccopia da quiz lo scopera per vincere una piadina così ma adesso insomma ci sono avvicinati altri sponsor altre persone per cui i premi sono stati un po' più ricchi questa settimana abbiamo regalato un viaggio per quattro persone in un villaggio turistico e niente poi alla fine questo quiz genera una classifica per cui i più bravi prendono dei punti e quindi poi alla fine quindi a maggio quando finirà la Champions League finirà anche la nostra Champions League e i più bravi i 4 più bravi insomma vinciranno dei ricchi premi ci stiamo divertendo ci stiamo divertendo e sicuramente ci divertono anche tutti quelli che stanno bene anche tutti quelli che come me vengono da te come ho fatto come ho fatto ieri benissimo Alessandro ti lasciamo andare ti lasciamo tornare a casa ci ha fatto piacere magari vediamo il piacere vediamo vediamo di commentare anche viaggio si aspetta che c'è qualche domanda no non si è capito bene il sito noi la sua pagina facebook ci chiedevano del sito Alessandro è la pagina facebook la pagina facebook e pianieria foggio dal 1998 allora facciamo così sul sito di mitico channel metteremo il link alla pagina facebook e magari così facilitiamo i contatti per tutti ok perfetto va bene Alessandro buon rientro buon rientro grazie grazie saluti a tutti ciao un abbraccio ciao ti salutano tutti buona giornata ciao ciao eh Biagio a questo punto mandiamo uno spot allora eh sì questo decisione sì 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 in effetti possiamo anche mandarlo allora mandiamo la pubblicità dai come il caso sui maccheroni signore e signore pubblicità buonasera a tutti amici della fiara benissimo allora diciamo possiamo un po' archiviare anche il commento di questa partita io userei l'ultima parte della trasmissione per affrontare un po' le vicende di mercato se per capire insomma sia come valutate gli ingressi di Chirico e Vacca che in prospettiva chi ci potrebbe mancare perché ad esempio io non so e questo difensore centrale di cui si parla chi dovrebbe andare a sostituire perché lo Iaco non mi sembra almeno a mio modo di parere uno degli inamovibili nella formazione anche oggi ha fatto due o tre interventi nel secondo tempo che bisognava scendere e dargli una mano e quindi Giacomo parto da te secondo te chi ci serve se Chirico dico il mio giudizio ma a me Chirico non entusiasma come giocatore perché è troppo estroso i giocatori pratici ecco però magari può tornare utile e volevo capire da voi appunto che giudizio date dei giocatori presi e chi vi aspettate che arrivi beh aspettiamo intanto l'ingresso di Vacca vediamolo in campo come se ne parla a che posto di chi dovrebbe giocare perché Coletti ha le chiave del centrocampo Agnelli il capitano Gerbo e Gerbo e faranno la girandola ogni tanto entreranno a partita in corso perché secondo me io ad esempio avrei inserito H a un certo punto oggi al posto di Agnelli come ho già detto prima però anche sì anche la questione difensore centrale sono perfettamente d'accordo con te per me lo Iacono deve rimanere là a vita perché è veramente fortissimo si parla infatti di un di un di una riserva diciamo per lo Iacono quindi per me sarà un giocatore non diciamo di basso profilo però un giocatore che comunque accetti la panchina almeno per un po' di tempo per il resto secondo me possiamo continuare a giocarcela così come diceva di Bari infatti è importante non rovinare gli equilibri non rompere gli equilibri chi diceva che sarebbe potuto arrivare Eusepio Sansovini effettivamente sono giocatori forti ma dove li metti poi no nel senso Giovanni che non averli chiaramente Giovanni tu che dici per me Chiricò è un giocatore fantasioso però naturalmente non c'è lo spazio infatti Floriano là secondo me è anche un altro giocatore che non si può spostare come Sarno e Iemmelo però Chiricò per me oggi c'è anche Mazze è vero essendo la prima partita però secondo me può dare molto può dare molto e poi Gioti e lo Iacono sono irremovibili immobili là e niente oggi hanno salvato la partita lo Iacono ha salvato su un'azione di controfide proprio su Arcidiacono sì secondo tempo e niente la squadra è quella per me la squadra è perfetta non c'è niente da cambiare il problema è proprio andare a trovare il gol andare a diciamo concretizzare tutte quelle occasioni che sembrano stupide ma bisogna sempre concretizzare per me bisogna il Foggio oggi ha giocato bene a parte il pareggio per me il Foggio ha giocato bene tutti hanno giocato bene secondo me però è mancato il secondo gol oppure magari Riverula il primo errore sul gol a loro oppure essere più cinici ricordava un po' la partita col Barletta dell'anno scorso stessi identico quello si dirà altre 500 volte che la mente la manda in curva sud la palla però insomma sembrava un po' la stessa partita però abbiamo giocato abbiamo reagito diversamente si giudano per la maggior parte della partita dietro come accade spesso contro il Foggio purtroppo è così Pino eh sì sei paura però Pino sì no volevo dirti secondo te chi sei forse un attaccante io direi magari perché se gli è meglio a un certo punto deve essere squalificato si fa male chi ci gioca là davanti come attaccanti ne abbiamo parecchi bisogna cercare di vedere se Viola fa questa l'opera gli attaccanti abbiamo la squadra l'abbiamo e secondo me l'innesto di Chiricò non è un innesto di un giocatore titolare per essere titolare secondo me è un buon diciamo un buon cambio per la squadra attuale che è il Foggia oggi purtroppo Floriano non ha girato come doveva girare allora è stato subito cambiato e la cosa che mi preoccupa è Chiricò da qualche ho potuto leggere in settimana è un giocatore che rovina gli spogliatoi quindi questo la squadra del Foggia e la squadra sono tutti giocatori quindi non vorrei che rovini il gioco diciamo di De Zerbi e niente come gioco oggi abbiamo giocato da Foggia ma non abbiamo concretizzato purtroppo Iemmela non può avere dieci palle gol e concretizzarne solo due da quel che so io pure notizie che ho avuto da amici foggiani che vanno a vedere hanno visto pure gli allenamenti del Foggia De Zerbi gli sta su a Iemmela gli sta sempre sopra gli dice sempre che non può perdere troppe palle gol che non concretizza abbastanza quindi non è è un dato di fatto non è il campionato siamo a metà campionato quindi non è che ci stiamo inventando comunque dieci gol li ha fatti insomma si si senza rigori solo segnare palle incredibili e non segnare palle facili non erano facilissime neanche le palle di oggi beh quella un metro dalla porta è più semplice di quella ma non è solo in questo contesto non è solo la partita di oggi abbiamo quasi sempre criticato Iemmelo durante tutto il campionato perché o perché non spinge troppo perché perde queste palle facili o perché non convince non gira come dovrebbe girare un attaccante che è lui una punta che è lui quindi Vincenzo Sì a proposito di Iemmelo è più di qualche volta che sento dire nelle dichiarazioni dei Zerbi che lui Iemmelo gli piace come si direbbe qui gli garba sulla sinistra e quindi insomma anche anche dei Zerbi lo sta attimendo mettendo tra virgolette in discussione se è il re Pietro non si discute però quando ha delle occasioni deve assolutamente buttarle dentro e oggi insomma se abbiamo pareggiato è anche tra virgolette colpa sua e invece secondo te Vacca dove può trovare spazio con questa scuola? Vacca ragazzi è un casino perché noi si gioca in unici il problema è tutto lì se si giocasse in 13-14 allora lo spazio lo troverebbe tranquillamente Vacca dicono che è un grande giocatore però chi si butta fuori? Coletti Agnelli secondo me il mister dovrebbe tra virgolette fare una sorta di turnover insomma ora nel momento in cui questi giocatori carburano di più e buttarli dentro dall'inizio oggi Agnelli insomma si è visto che qualche panettone insomma è stato è stato consumato però Amaro si è giocato bene ha recuperato tanti palloni assolutamente però insomma nel secondo tempo io l'avrei cambiato un attimino prima anche lui ha fatto un passaggio criminale tipo quello di di Riverola esattamente però poi De Zerbi ha voluto mettere un'altra punta dando un impulso insomma un segnale alla squadra che la partita la voleva vincere purtroppo queste partite sono nate sono 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 infatti quindi la Juve Stadio ha fatto credo due o tre tiri in porta è ha avuto un buon contropiede lì ha però un tiro per un nostro errore l'ha buttata dentro quindi ha fatto diciamo ecco questi sono golli che possiamo concedere un tiro da 30 mezzo sotto l'incrocio assolutamente assolutamente certamente Juanito chi vorresti che si aggregasse alla squadra un attaccante un difensore un altro centrocampista ma io cioè secondo me la stagione è lunga ancora quindi se arriva qualcuno benvenga nel senso che tra infortuni squalifiche e altro è bene avere delle valide alternative dopo a me personalmente piacerebbe un altro attaccante però il discorso è chi toglie giustamente però come dicevo prima la stagione è lunga magari qualcuno che ti sblocca la partita qualcuno che la butta dentro però c'è da dire adesso ho sentito i nomi di Sansovini non so chi chi glielo spiega di chi che partono dalla panchino oddio d'estate tanto Sansovini non è che può però io penso che uno come lui ad esempio in queste partitacce dovete chiuderla dovete un episodio un rigore una punizione una botta di culo penso che questi giocatori potrebbero aiutare Biagio Biagio è una situazione di mercato molto ingarbugliata gli altri anni avevamo problemi che non c'eravamo soldi per comprare a meno le riserve delle altre squadre quest'anno invece non sappiamo più dove metterli i calciatori adesso abbiamo questo problema di Viola che anche quando è entrato oggi mi sembrava ormai destinato all'operazione non è entrato come è entrato le altre volte insomma era un po' compassato però c'è un'abbondanza di primi nomi ecco come andrà a finire sono te ne prendiamo degli altri daremo via qualcuno chi ci serve veramente ma io devo dire non ho l'impressione che si possono fare troppi cambiamenti per questo che ci riguarda perché perché il il problema maggiore non è almeno anche oggi vediamo una squadra di fondo che è una squadra abbastanza complicata il problema è nella fase di realizzazione però noi come gioco ci si hanno aggiungere altri elementi avrei paura non so se avete notato i ricopi non si è emozionale però nella misura dei passaggi qualche problema l'ha avuto c'è sì una squadra che ha fatto ormai tutto il girone d'andata con giocatori che ne avevamo un paio più o meno per tutti i ruoli quindi che hanno potuto giocare più è una squadra che è abituata a stare bene in campo si trovano non voglio dire a memoria però comunque hanno una certa semplicità hanno una misura sanno con che velocità si possono muovere invece il nuovo il chirico della giornata qualche errore di misura lo ha fatto ed erano i tipici errori di quelli che hanno bisogno ancora di capire esattamente i movimenti dove si troverà il compagno da lì a due secondi eccetera se cambiamo proprio di una squadra che comunque è al secondo pozzo che comunque sta lì commettiamo degli errori io non so cosa succederà alla Casertana ma la Casertana che ha messo diversi giocatori nuovi io so che comunque poi possiamo vedere se li farà giocare tutti quanti perché magari gli fa stare la panchina ma non credo non con quelli che ha comprato beh la Casertana a quel punto di vedere quanto tempo ci mette quante partite brucerà prima di tornare a regime ammesso che siamo stata a pieno regime per la squadra però sai adesso per esempio ho letto il tabellino Caturano ci ha segnato nel legge appena comprato subito ha segnato secondo te non c'è il rischio che io nel senso spero che non gli succeda mai niente ovviamente però se io e me lo dovesse mancare noi siamo un po' scoperti come punti centrali perché Viola anche se non si opera comunque c'è un problema chi giocherebbe lì centrali non c'è un altro centro avanti d'altra parte se ne chiami uno forte come dicevano anche di Bari e di Zerbi lei li può dire accomodati in panchina e non giocare mai quindi nel senso i Leonetti di quest'anno non ce l'abbiamo sì il discorso è questo innanzitutto ribadisco il concetto proprio aspetto il viaggio non c'è niente è entrato in ronzio c'è un ci siamo però sì allora ho disturbato non è questo in spazio però non credo di te in Italia in questo momento non riesco a fare di meglio faccio ok comunque ti sentiamo si tratta di questo allora io non ho avuto l'impressione che Gemmello anche se magari qualche volta si mangia uno due tre quattro gol in una partita che è un elemento 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 di sostituirlo e che venga messo fuori per una decisione al cui grave viene ritenuto inamovibile la propria ragione che insegna sempre la ragione quindi il sostituto di Gemmello se lo prendi si fa la pantina e il rischio qual'è che poi ed è una cosa che ha detto di Badino per la questione sportiva il rischio è che se tu prendi un volatore e gli fai fare la pantina e lui non è preparato a farla beh qualche problema questo lo può dare certo è vero lo capisci poi abbiamo questa situazione un pochettino anomale si va bene comprare ma non comprare solamente per dire che abbiamo fatto un'altra campagna fissa la squadra è stata fatta è stata fatta bene questo stato probabilmente solo con qualche elemento che era un po' ciaccato non so se è stato complautato se non ci hanno detto tutto abbiamo avuto più di un elemento che non è che è arrivato rotto ma è arrivato sicuramente in una situazione fisica non eccellente tant'è che adesso a fine giro non è andata abbiamo una serie di problemi io posso dire che si faccia male quinto ma si è fatto male gli altri già avevano dei problemi giuriano e viola pure Mazza diciamo tutto sommato sono stati infortuni incomprensibili senza sì sì però Mazza ce l'avevamo già capito il problema nostro è che Mazza l'avevamo già e quindi è chiaro un giocatore ce l'hai come ti è capitato con Quinto è più o meno normale che tu avessi questo problema tra l'altro anche Quinto come fa a giocare pure Quinto è veramente il centrocampo è proprio iperaffollato io ricordo questo poi faccio una linea a te e agli altri noi abbiamo stiamo finendo finiamo il girone d'andata perché oggi il girone d'andata finiamo il girone d'andata in una posizione di classifica comunque ottima siamo al secondo posto la Casertana è là non so come farà domani però alla fine se non vogliamo considerare finito il campionato nella solo le partite di un'andata se non ci siamo noi a contendere il primo posto alla Casertana il girone d'andata ci siamo e ci arriviamo anche con una squadra che con qualche un po' più di precisione in zona golla starebbe molto avanti anche oggi e quello che è mancato quindi va bene se capita se abbiamo la possibilità di prendere qualcuno al posto di quei calciatori che qualche problema fisico ce l'hanno va bene ma comprare soltanto per dire a parte che dovremmo mandar via qualcun altro ma certo si parla il numero della lista hai citato Leonetti non lo so no dicevo Leonetti non come Leonetti in sé come alternativa di uno che si fa la panchina volentieri come un po' è Viola Viola pure è un altro che mi sembra che faccia problemi a stare in panchina però tutte le volte che è entrato poi nel senso il suo contributo l'ha dato beh certo però lui si fa la panchina anche che ha preso il 90 minuti ma per me è facilmente ah beh certo forse se uno che si devono decider si opererà almeno il rendimento di 90 minuti di questa vita no ecco io te lo dicevo perché la paura mia è che metti esso oggi è mello se è beccato quel difensore metti di Deverros a tutti e due chi diventa il nostro centravanti se decidono di far operare Viola capito non c'è Viola Mazza che l'ha fatto nel che ripensivo non c'è Chirigo non è certo un centravanti insomma è anche un breve video nel Lecce ha giocato anche a centravanti però neanche puoi fare il suo discorso nel senso che se hai Mazza infortunato Viola infortunato nel senso è pure sfortuna non puoi comparare quattro attaccanti nel caso in cui si infortunassero tutti come è successo capito in teoria tendenzialmente ci riavresti i sostituti eh lo so però quelli ritorno Mazza rientra a metà febbraio se rientra a metà febbraio e tocca vedere pure come rientra Viola se lo operano un altro paio di mesi fuori se li fa potrebbe essere tardi a fine marzo capito che tu stai io capisco quello che vuoi dire però è pure complicato da vabbè poi te nemo qualcuno insomma ma può darsi che sia pure una cosa buona se capita che Iemmelo viene posto fuori risquadra per una domenica può darsi che si si sblocca qualcuno esce un altro gioco e le palle facili entrano che poi quello si diceva che ma non so non c'era Iemmelo non so perché De Zerbi si è fissato con Iemmelo mai sostituito mai 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 ha ragione capo cannoniere però ma ci vorrebbe però c'è prestito Iemmelo però tra l'altro non ci scordiamo quello che ha fatto Iemmelo per il Foggia cosa ha combinato quest'estate no 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 ma io non ho niente da dire per Iemmelo assolutamente però io vedo la prestazione uno pure non lo so Totti per la Roma grande ha fatto tanto sta facendo tanto per la squadra la sua città tante cose però alla fine devi vedere cosa concretizzi noi stiamo puntando per andare in in Serie B e essere la capolista quindi non puoi sfumare in casa con 10.000 spettatori una palla goal che le palle goal che ha avuto oggi non si può non è accettabile non siamo la Paganese non siamo la Juve Stabio noi siamo il Foggia e siamo blasonati e dobbiamo 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 salire in B se no tutto quello che sta costruendo adesso la società sfuma perché i soldi sono stati investiti e non stanno rientrando soldi di quelli che sono stati investiti quindi bisogna avere un grande rientro e subito se no De Zerbi è il primo a partire con tutta la squadra non voglio essere negativo ma voglio essere questa è la pressione che pressa la città il Foggia e la città nei prossimi 2-3 anni dobbiamo andare in B perché la società non sta incassando quello che sta spendendo quindi adesso bisogna spendere pure per un altro attaccante centrocampista qualche sia ma non possiamo dormire Iemmello si deve dare una bella svegliata invece della camomilla si fa un bel espresso e la butta dentro domenica bisogna vincere contro la Paganese bisogna per forza però certo domenica diventa fondamentale anche perché poi bisogna approfittare che stanno in quella posizione e gli avversari abbiamo visto che sono meno fortini quindi esattamente da sfruttare è quello che dico non si parla a Sky o altri canali dove si parla di serie A e anche qualche serie B del Foggia di De Zerbi De Zerbi come ospite non si parla tanto per si parla perché Foggia ha un buon gioco una buona squadra e anche al secondo posto ci sta ci sta stretto a noi il secondo posto a un punto dalla Casertana con una partita in meno la Casertana a noi ci sta stretto noi dobbiamo essere lì e dobbiamo noi dobbiamo controllare la Lega Pro Girone C secondo me da come stiamo quindi grazie a Dio ci facciamo i problemi che abbiamo i momenti attaccanti chi mettiamo chi togliamo che facciamo centro cambisi meno male la Paganese togliamo a questo titolare chi mettiamo mettiamo in racchetta palle ci sono squadre che giocano così grazie a Dio che il Foggia è di un altro livello ecco perché quest'anno è l'anno è l'anno giusto è tutto insieme dobbiamo crederci quindi avanti avanti Iemello diamoci una svegliata è il nostro capocannoniere non ce lo dimentichiamo però insomma deve essere intelligente come lo è sicuramente De Zerbi a fare le giuste i giusti cambi al momento giusto e capire quando un giocatore deve essere stimolato mettendolo in panchina benissimo io allora a questo punto dobbiamo appuntamento alla prossima partita se non sbaglio è sabato sera giusto? lo sabato con la Paganese che è tutto altro tipo di partita poi la bisogna vincere per forza e quindi saluto tutti quanti tutti quanti quelle persone che ci hanno seguito sul sito e poi tutti voi in linea quindi parto da Giovanni che è un nuovo ingresso che si collega da Chieti e il nostro Guanito da Mantua Giacomo da Milano Pino dalla California e Vincenzo da Pomarance e Biaggio che dura la regia che affoggia e quindi niente ciao a tutti e alla prossima settimana ciao a tutti ciao buon dia ciao a tutti Grazie per la visione!